In studio con noi per la seconda parte del telegiornale l'assessore all'ambiente Daniele Ialacqua, grazie per essere con noi. Parliamo ovviamente di quanto è accaduto a Messina Ambiente, parliamo un po' meno di ambiente in senso puro, di arredo urbano, ci concentriamo su quanto è accaduto a questa società partecipata, 5 arresti, un sistema che avevate denunciato, l'abbiamo dimostrato con il nostro servizio andato in onda qualche minuto fa, adesso la vostra sensazione qual è anche per quanto riguarda le prospettive future, perché Messina Ambiente rimane una società partecipata del Comune con la quale bisognerà dialogare. Allora quali saranno le prossime mosse organizzative anche di Messina Ambiente? Sì, intanto vi ringrazio per il servizio che avete mandato in onda, il servizio diciamo relativo allo scorso anno quando abbiamo denunciato tutta la situazione che avevamo visto guardando bilanci e sistemi organizzativi di Messina Ambiente, perché uno dei vizi di questa città è avere la memoria troppo corta, c'è la memoria troppo corta anche la città in generale, il mondo della politica, direi anche il mondo dell'informazione, e invece bisogna ricordare i percorsi che si sono fatti, chi si è speso per questa città in maniera corretta, pulita e ha cercato di mettere in atto politica appunto per far uscire questa città, perché non c'è qua da gioire se vi sono tante inchieste, c'è da essere soddisfatti che finalmente ovviamente si interviene in maniera incisiva su tanti buchi neri della città, però è la città, l'immagine della città che ne esce veramente distrutta. E allora insistere e sostenere chi ha fatto questo percorso di legale e correttezza come stiamo cercando di fare noi, deve essere messa anche nelle condizioni di poterla fare. Su messi in ambiente noi ricordo semplicemente appunto il cambio della dirigenza, gli interventi fatti proprio in questi che sono i punti oggetto dell'indagine, cioè appunto determinati tipi di appalti, modalità di affidamento di gare, senza osservare il codice ovviamente degli appalti, tutta una serie di cose che Ciaccerrossi, e voglio anche qui ricordare, sono stati massacrati da critiche di ogni tipo, sono proprio i dirigenti che invece le figure che hanno consentito di mettere ordine in questa macchina di messi in ambiente, non abbiamo completato, e nel settore dei rifiuti, non l'abbiamo completato quest'opera, come diceva lei il percorso che abbiamo intenzione di fare è quello che abbiamo tracciato, noi abbiamo sempre puntato fin dall'inizio a una nuova società, una società che potesse consentire di ripartire da zero e di rilanciare un servizio che ovviamente è ancora in forte criticità. Lei ha messo giustamente i puntini sulle i, diciamo così, adesso però c'è un altro meccanismo da capire, la spazzatura costa ai messinesi anche per le ragioni di cui abbiamo sentito parlare, 44-45 milioni di euro, cifre importanti, l'ultima tassa approvata dal Consiglio Comunale viaggia comunque su queste cifre, adesso che tanti costi sono stati tagliati è ragionevole pensare che dal prossimo anno almeno le cose cambieranno, e perché non sono cambiate già con questa tasta sulla spazzatura? Sì, ecco io vorrei dire che questa inchiesta io credo, ora vedremo qual è il suo percorso, ma sicuramente è solo un piccolo segmento di quello che c'è dietro la gestione dei rifiuti, non soltanto a Messina ma in Sicilia, noi siamo costretti attualmente a conferire i nostri rifiuti a Catania, spendiamo tra gli 11 e 12 milioni di euro, in tutti questi anni nessuno ha pensato di dotare la città di un impianto, nessuno mai ha pensato quale potessero essere le ricadute sulle tasche dei cittadini di un servizio di questo tipo, perché negli anni passati ovviamente si allargava il debito e la tassa su rifiuti ovviamente non copriva tutti i costi, quindi non ricadeva tutto sui cittadini, da quando siamo arrivati noi per legge, ovviamente questo ha comportato come si sa la ben nota Tares, la necessità che i cittadini coprissero tutti i costi, ecco che tutti ci si è accorti, cosa che noi sapevamo comunque da tempo, che la modalità di gestione è una modalità di gestione appunto che sperperava denaro pubblico e che non creava servizi, per questo dico io, ora i passi sono importanti ovviamente da fare, vediamo la magistratura cosa farà, sono importanti pure i nostri, però io credo che per cosa abbiamo tracciato noi, e cioè nuova impiantistica, raccolta porta a porta e poi magari sull'occasione dico una buona notizia su questo, è nuova società, è la strada buona da seguire. Senta, ma voi avete portato in aula un costo che era quello sostanzialmente equivalente agli anni passati, anzi leggermente maggiorato per il problema della discarica a Catania, dal punto di vista contabile non è cambiato niente fino a quando la magistratura non ci ha messo le mani, cioè non avete poi sconvolto più di tanto il meccanismo neanche con l'amministrazione Ciacci, visto che i costi sono rimasti quelli. No, in realtà non è così, Ciacci come ha dimostrato nelle varie relazioni che ha presentato... Voi nel frattempo cosa avete fatto? No, ringraziamo che è intervenuto alla magistratura, che è intervenuto grazie alla nostra denuncia, poi alla denuncia anche di altri consiglieri, e noi la denuncia l'abbiamo fatto proprio sulle questioni economiche, portando un bilancio che non ci convinceva, e sarà poi l'indagine e l'inchiesta ad accertare tutti gli aspetti. Noi grazie ad Alessio Ciacci e a Rossi abbiamo ridotto notevolmente alcuni costi, e io mi aspetto ancora un altro pezzo di indagine, cioè ad esempio quella sull'occupazione. Negli anni passati sono state assunte centinaia di persone con un errore, a quanto sembra, di conferma di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, un errore che ha portato a un aggravio dei costi annualmente di circa 4 milioni di euro. So che è oggetto di inchiesta, vedremo dove si andrà a finire, quindi gli approfondimenti da parte della magistratura ritengo appunto non siano finiti, l'azione nostra di riduzione dei costi non è finita. Certo, se tutto congiura contro, dalla discarica fuori a costi appunto strani e caricate sul bilancio, è chiaro che abbiamo anche noi difficoltà poi a poter gestire... Prima di fermarci per 45 secondi di pubblicità, le chiedo una cosa, ma se tutto andava così bene, se c'era l'inversione tendenza, ma perché se n'è andato Ciacci? Ce lo vuole dire in maniera ufficiale? Che è andato tutto bene, diciamo, non diciamolo perché il settore era sempre in criticità, non abbiamo completato il percorso. Perché noi eravamo convinti che si era chiusa questa prima fase, io anche in quella conferenza stampa in cui è stato presentato Ciacci e poi successivamente Rossi, avevo già detto che il supporto dei consulenti deve avere un arco di tempo ben delimitato, dopodiché passiamo alla fase successiva che è quella della nuova società. Noi abbiamo fatto una deliberazione il marzo 2015 con il quale volevamo trasformare questo settore e far nascere la nuova società entro il giugno di quest'anno e poi la super multiservizio entro il dicembre. I tempi sono slittati, con Ciacci eravamo rimasti appunto che è finita quella prima fase, la seconda fase successiva si andava quindi a un nuovo soggetto e quindi a una nuova governanza, mantenendo però i rapporti di collaborazione. Questa è la fase che ancora dobbiamo completare e io spero che appunto questa fase si acceleri e si riprenda anche questo rapporto di collaborazione con Ciacci che ci ha dato anzi ottimi direi. Appena 45 secondi di spazio ai nostri sponsor, poi torniamo con l'assessore di Alacqua che ci diceva anche delle novità da annunciare sul piano della raccolta differenziata. Allora ci vediamo tra poco. Istituto regionale della danza diretto dalla professoressa Emma Prioli, la più antica, famosa e prestigiosa scuola di danza in città. Iscriviti subito, i nuovi allievi del corso di danza educativa non pagheranno l'iscrizione. Scegli la sicurezza, affidati alla professoressa Emma Prioli, irraggiungibile esempio di professionalità ed esperienza artistico-didattica, a Claudia Bertuccelli, ballerina professionista, coreografa ed insegnante di danza contemporanea e da Tilia Ruggeri, insegnante dei corsi preparatori con diploma all'insegnamento della danza dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Ti aspettiamo negli ampi e confortevoli locali di via Industriale 32 Messina. In studio con l'assessore all'ambiente Daniele Ialacqua, dunque l'assessore voleva annunciare delle novità che riguardano la raccolta differenziata che ha fatto certo dei passi in avanti ma ancora di strada ne deve fare, diciamo. Certo. Ecco, quali sono queste novità? Sì, volevo annunciare questa bellissima novità. Noi lunedì scorso abbiamo chiuso la gara del porta a porto, un vecchio progetto, vorrei ricordare, del lato che abbiamo poi ripescato perché era stato un po' abbandonato a se stesso, lo abbiamo intestato al comune. Il lunedì abbiamo chiuso la gara, oggi perfezioniamo gli ultimi atti che porteranno all'affidamento, all'ordine di acquisto dei mezzi che ci consentiranno all'inizio del prossimo anno di partire finalmente col porta a porto in metà della città. Questo sarà un grosso salto di qualità. Con i villaggi, no? Ovviamente in questi giorni ci stiamo vedendo commesse in ambiente, con Ato, per il settore della raccolta differenziata, proprio per organizzare il servizio. Diciamo che c'è un piano ovviamente di organizzazione del servizio del porta a porta. Questo sarà almeno 100.000 persone, cittadini, di fare il porta a porta, di ridurre i costi perché conferiremo meno in discarica, di recuperare soldi perché venderemo la raccolta differenziata e finalmente di avere investimenti nuovi e finalmente ridurre questa maledetta tassa. Bene, cogliamo questo annuncio e insomma tempi abbastanza ristretti, no? Sì, siamo per fortuna obbligati dalla normativa anche europea perché entro l'anno dobbiamo completare tutto l'iter e alla faccia anche di tanti gufi che abbiamo avuto in questo periodo, diciamo, la fase più importante, quella della gara, l'abbiamo espletata e ora siamo nella fase finale. Torniamo a Messina Ambiente e a quanto accaduto, lei parlava poi di questa effusione con l'AMAM, il progetto quello grande e importante di questi molti servizi dell'amministrazione a Corinti. Ecco, dopo quanto accaduto con la crisi idrica l'AMAM ha mostrato un po' di debolezza, ritenete sempre che sia il soggetto sul quale far confluire tutto oppure un po' da rivedere questo piano? Sì, io credo che proprio quello che è successo dimostra la giustezza della nostra scelta. Le partecipate sono purtroppo un buco nero di questa città, hanno assorbito risorse, ingoiato risorse, non dato i servizi che si chiedeva e poi ricaduta negativa sulle tasche e sulla vivibilità dei cittadini. Una nuova società che possa riassumere tutte le funzioni che attualmente sono svolte da società diverse con costi moltiplicati per 2, per 3, per 10, quanto sono le partecipate, mettere tutto in un'unica società consente di ridurre molto queste diseconomie, questi sprechi e poi soprattutto migliorare il servizio. Quello che abbiamo proposto, che doveva partire entro giugno, che spero in questi mesi abbia un'accelerazione, era una mini multiservizio che c'è in tutta Italia, una società che gestisce acqua e rifiuti. Questi fatti di questi giorni dimostrano la necessità e l'urgenza di fare questa nuova società, di ridare una nuova governance a questa nuova società e finalmente avere servizi degni di questo nome. Negli ultimi due minuti, per quanto riguarda l'impianto di pace, parliamo della zona di pace dove c'è una sorta di discarica abusiva, non mi viene un termine più adatto. Tecnicamente non è una discarica. Infatti è una situazione di conferenza, però di fatto è una discarica, basta guardare le immagini. E poi c'è questo impianto nuovo che dovrebbe essere realizzato. Lei sa bene che gli ambientalisti, lei lo è anche, ma insomma una parte, gli ambientalisti ce l'ha con lei per queste ragioni. L'impianto lì non si può fare, uno, quello che c'è è di fatto una discarica. A queste critiche lei come risponde? Sì, intanto direi che non è tutto il mondo ambientalista mestinese contrario, c'è una parte del mondo ambientalista che si è schierata dalla nostra parte e dalla mia parte, proprio perché la nostra scelta sofferta è nata proprio da questo fatto che purtroppo sta avendo la certificazione da queste inchieste. Questo settore è stritolato dal malaffare. Noi siamo in mano ai padroni privati delle discariche a cui diamo, ripeto, ogni anno 10, 11, 12 milioni di euro. Allora se volessimo continuare su questa strada continuiamo e raccogliamo i frutti amari che stiamo raccogliendo in questo periodo. Se volessimo cambiare strada, allora bisogna porsi il problema, gli impianti devono essere fatti e devono essere fatti in città. Noi abbiamo, per così dire, sfruttato un progetto che era in corso, ovviamente cercando e richiedendo tutta l'autorizzazione del caso, che c'erano, ora sembrerebbe appunto che questo procedimento abbia avuto uno stop, ma l'obiettivo era semplicemente quello di rendere autonoma questa città finalmente, una volta per tutte, ridurre i costi e far sì poi che tutti i rifiuti non finissero in discarico come ora. Noi siamo una controtendenza enorme all'euro nazionale. Oltre quasi il 90% dei rifiuti non li portiamo in discarica, la media nazionale è del 42%, in Germania va a finire in discarica il 5%, quindi noi siamo invece al 90%, non si può continuare. E allora avere un impianto qui e parallelamente avere un porta a porta, una corte differenziale da spinta, ci permette di ridurre il conferimento in discarica e ripetono poi non è una discarica tradizionale, c'è un impianto di biostabilizzazione, trattamento percolato, varie impiantissime che noi qua ce le siamo sempre sognate. Ecco, questo impianto ci sarà, Sessore, quando ci sarà? Questo impianto ci sarà? Ora, questo impianto ha subito uno stop e la Regione sta seguendo la procedura per vedere se è sbloccabile o meno e ovviamente vi l'ho sempre detto, se ci sono motivi di carattere appunto normativo, legale, che impediscono ovviamente la costruzione di questo impianto, noi ovviamente è chiaro che ci fermiamo. Però a pace non vorrei che si facesse confusione con un altro impianto che c'è già, che è pronto, che è per la pulizia della raccolta differenziata. Stiamo avviando le procedure finalmente per affidare l'ingezione, questo ci consentirà di fare un altro salto avanti, un impianto che ha costruito lato con finanziamenti europei, che ci consentirà di fare un ulteriore salto di qualità e poi la via, secondo noi, è quella anche del compostaggio e gli impianti di digestione anaerobica che la Regione tarda a finanziare e ad avviare e anche quella è un'altra via possibile. Grazie all'assessore Daniele Ialacqua per la sua presenza qui oggi. Grazie a voi.